Un gradito ritorno al teatro sociale ha sancito il primo dei concerti della decima stagione di musica da camera Accademia dei Cameristi a Fasano. Ieri martedì 12 novembre si è svolto il concerto inaugurale che ha visto esibirsi due giovani talenti Cristian Sebastianotto al violino e Erika Picotti al violoncello accompagnati al pianoforte da Viviana Velandri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.